Gli anziani devono ascoltare e credere in quello che stanno dicendo i giovani. Bisogna imparare a ascoltare anche i giovani, perché per chi non lo sapesse, in alcuni paesi africani quando sei giovane non viene ascoltato. Dicono, you have to listen to elders, but elders won't listen to the young ones. Perché dicono, devi ascoltare i grandi, ma i grandi non ascoltano il bisogno che hanno i giovani. Quindi, quello che sta dicendo lei è, si chiede perché noi abbiamo accesso a sanità, a scuole, a diverse strutture. C'è il nostro diritto e perché invece quelli che sono in Nigeria non ce l'hanno. Non ha senso, abbiamo un diritto. Tutti hanno il diritto di vivere meglio, hanno il diritto di scelta. E vuole ringraziare tutti quanti che siamo qui oggi per lottare per questo. Vuole dire grazie, davvero. Sia ad africani o non africani, non devi essere africani per lottare per il bene. Il bene è il bene, non ha colore, non ha razza, non ha paese. Hai detto bene, cara.